pasta tonno e uova per prima cosa taglio la cipolla olio in padella metto la cipolla i capperi sotto sale le acciughe sott'olio e mentre la cipolla rosola a fiamma bassa schiaccio nell'olio capperi e acciughe ora salo l'acqua metto a cuocere la pasta nel frattempo rompo le uova in un contenitore metto il sale il pepe e mescolo a questo punto unisco il tonno le cipolle trasferisco la pasta molto al dente e la faccio insaporire mescolando poi spengo la fiamma aggiungo il composto di uova e mescolo per un paio di minuti sempre a fiamma spenta ed eccola qui buon appetito